Live Social I presento subito è con me Marco Venneri, benvenuto Marco Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori di Roma Radio Capitale, grazie Grazie a te di essere qui Marco Allora abbiamo già svelato due cose importanti, cantautore che è un aspetto fondamentale ma poi uno strumento che non è diciamo tra i più frequenti perché è il clarinetto, corretto? Sì, sono diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia in clarinetto e sono anche un orchestrale della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano con l'enoro di far parte di questa prestigiosa formazione che rappresenta l'esercito nel mondo Quindi un professionista con la P maiuscola Sì Ma sei anche un cantautore? Sì, sono un cantatore e penso che è diciamo una cosa che porto dentro da quando ero un ragazzo molto giovane ho sempre voluto cercare di comunicare quello che avevo dentro con le parole e con la musica non solo con la musica perché do molta importanza al testo anche in una canzone Certo, perché poi la musica sicuramente è una suggestione che è molto, come dire, solletica l'emozione pura Certo, certo Ma il testo invece solletica ricordi, esperienze in cui ci si rincontra e che quindi ti danno grandi emozioni quindi è una parte importante Certo, poi quando c'è il connubio fra bella musica e un testo che ti fa anche viaggiare con la mente ti fa andare fuori dalla quotidianità, quello è il massimo quindi trovare questa magica alchimia è per me fonte di nuove ispirazioni, di nuove sfide Certo, ma poi nella tua vita penso la musica sia sotto forma proprio di musica ma anche come testo è una cosa che ti ha accompagnato sempre perché dal lato musicale dello strumento, l'accademia, la banda eccetera dal lato dei testi hai anche una lunghissima esperienza come autore di testi in un noto festival musicale di Milano dove hai anche vinto dei premi per miglior testo, quindi è proprio una cosa, è una tua natura Certo, è vero, è vero e non posso stare più di tanto senza comunque Vai in astinenza Sì, devo sempre scrivere qualcosa e mi fa piacere che comunque questo qualcosa poi arriva alle persone e magari anche ecco ci sono queste magie che soltanto un testo e una musica insieme possono fare Certo, ma vediamo, dove ti ispiri? Sia dal punto di vista musicale, quindi di genere, ma una cosa che mi incuriosisce è anche da che ispirazioni nascono i tuoi testi che sicuramente sono fonte di ispirazione Allora, intanto tengo a precisare che le mie canzoni non seguono un filone ben definito Nel senso che io in base all'argomento e a quello di cui voglio parlare scelgo nella tavolozza dei colori, facciamo finta che sia un quadro, una tela E io nella tavolozza dei colori scelgo per dire i colori freddi e quindi magari uso delle tonalità minori e delle musiche melodiche E dei testi magari anche ermetici, anche surreali E poi magari se voglio invece parlare di altro e dare un po' di ritmo, anche far divertire il pubblico Perché mi piace stupire il pubblico, non mi piace rimanere su un canovaccio ben preciso e fare sempre le stesse cose Certo Per dire, ho fatto brani come c'era una volta che parla di un viaggio immaginario nella fantasia dove ci stanno re, principesse, maghi, eccetera, eccetera Una musica molto melodica con il clarinetto che comunque ha il suo bello solo Magico E poi magari passo ad un altro brano invece scansonato che poi tanto scansonato non è tipo selfie Che ascolteremo in coda la registrazione Grazie, questo selfie appunto che è un brano che vuole parlare appunto di questa moda Che è quasi una mania di farsi selfie, foto in ogni circostanza, anche nelle circostanze dove magari sarebbe meglio stare nella vita reale E poi si diventa un po' grottese E poi magari postare, magari tu neanche ti rendi conto, magari qualcuno ti ha fatto una foto e te li trovi in rete Certo Moralista, no, no, è una riflessione Però ogni tanto mi fermo a riflettere che magari bisognerebbe ogni tanto staccare e stare più nella vita reale Cercare il contatto con le persone guardandole negli occhi Certo Ma poi quanto rimane di quel concerto nel cuore e nella testa di quelle persone Quanto hai saltato, quanto hai urlato Sei stato lì con la mano che ti sta imbalsamando per riprendere tutto il concerto e per dire io c'ero Ma poi quanto l'hai vissuto veramente quel concerto Quindi ogni tanto fermarsi a riflettere sull'importanza di vivere la vita in maniera reale Non solo sociale, dal punto di vista dei social Certo Che fanno comunque parte della nostra società Ah, però come tutto c'è una misura giusta per istruzioni per l'uso Sì, infatti Sarà che io vengo da una generazione che comunque ha vissuto sia in un modo che in un altro Certo, esatto Però non mi sono adeguato perché comunque i social li uso chiaramente per promuovere le mie canzoni, la mia musica Beh, sono uno strumento comunque molto valido da questo punto di vista Quindi sì, sicuramente non da trascurare Certo E mi fai capire che, insomma, eclettico intanto Quindi se ti dovessi chiedere, se qualcuno ti chiede mi fai sentire un tuo pezzo Non hai risposta? Perché Allora, non voglio fare il finto modesto Ma io ho scritto 180 brani Ecco Quindi se tu mi chiedessi Scusa, prendo un po' d'acqua perché mi sento un po' la gola Allora Se mi chiedessi di far sentire solo un brano Avrei un po' di difficoltà perché Spazio non da vari generi Quindi Quale ti farei sentire? Quindi Diciamo che Sì È difficile Dovresti chiedere una in particolare Che vuoi sentire? Come ci senti? Magari devi fare sentire più di una Così avresti un'idea di tutti i colori di questa tavolozza artistica Esatto, che è bella questa visione della tavolozza artistica Ovviamente noi adesso in coda alla registrazione andremo a sentire il pezzo selfie Ma possiamo sentire tutti i 180 pezzi scritti da Marco Perché come abbiamo detto Facile sul web Abbiamo dal canale Spotify Marco Venneri Il canale YouTube Marco Venneri E tutto il corredo TikTok, Instagram, Facebook Sì, non mi sono fatto mancare Marco Venneri, esatto Ovviamente è sempre Marco Venneri Perché se no non avrebbe senso Abbiamo anche un'email se gli volete scrivere marcovenneri72-gmail.com E quindi Marco, vediamo un attimo Un'ultima domanda ti voglio fare Perché dato questo lungo percorso Ti chiedo come ti vedi nel tuo futuro Da cantautore Cosa puoi trovare? Sempre nuove canzoni, nuove ispirazioni Questa è la cosa che sicuramente farò Perché non ce l'ho dentro Quindi poi progetti tangibili Se ti dicessi per dire Andrò qui, farò quello Voglio andare a Sanremo Voglio continuare a scrivere canzoni Sicuramente non pongo limite alla provvidenza Però quello che posso garantirti Che scriverò canzoni fino alla fine proprio Penso che non potrai farne a meno E poi chissà che evoluzione subiranno nel tempo Infatti brava Magari con nuove tecnologie, nuovi mezzi Nuove tecnologie ma anche E nuovi argomenti Nuove argomenti Cambiamo nella vita Cambiando la vita Cambieranno anche certo Gli argomenti ma penso che comunque I sentimenti che Quelli eterni rimarranno sempre E beh, quelli sì Quelli sì Allora tutti i nostri amici ascoltatori Andiamo a cercare Marco Venneri Ovunque sul web per trovarlo Ascoltarlo, seguirlo E Marco io ti ringrazio Io ringrazio voi Ringrazio la vostra radio E tutti i radioascoltatori Grazie ancora E con gli ascoltatori Ovviamente un saluto Ma noi ci rivediamo prestissimo Alla prossima puntata Aiutatemi Sono schiavo del selfie E c'è qualcuno Sono il figlio del selfie Mi ha dato una chiave Allora Siamo aperto Nesta cosa Aiuto In vacanza al mare Perfino al funerale Sono schiavo Come lo sei tu Sì Tutti quanti in posa Un selfie con la sposa Fanno selfie Anche a Timburtù Sì Io non ero preparato Un lampo E mi hanno già postato Neanche il tempo di un sorriso Nella rete sto Ma chi l'avrebbe immaginato Fa selfie anche il capo di stato Il papo è il peccatore Il santo Li fa pure tu Tutto è un selfie Fa un sorriso E vieni pure tu Brutto selfie Altro che ricordo E schiavitù Senti maledetto Ma chi l'avrebbe detto Uno scatto e son volato giù Senti Giù per la scarpata Frattura rimediata Ora il selfie vale anche di più Senti Io neanche ti conosco Un selfie amico Mi è di posto Ad ogni cosa voglio Un selfie con la grande star Dimentichiamo i documenti I soldi e i buoni intendimenti Ma quel telefonino Sempre nelle mani sta Tutto è un selfie Yeah Fa un sorriso E vieni pure tu Brutto selfie Altro che ricordo E schiavitù Sono un selfie Yeah Ma dal vivo neanche ci vediamo più Tutto è un selfie Yeah Benvenuto in questa nuova schiavitù Ehi C'è qualcuno Liberatevi Sono più tu Come non ricordi la balacqua E si riferiranno Ca.o Live social Dimentichiamo E si riferiranno